Vittoria importante della Cusn-Caltanissetta di basket che batte la capolista olimpia al pala Cannizzaro per 65 a 49, agguanda il secondo posto e si porta a sole due lunghezze dalla squadra ragusana. Partita tesa ed equilibrata che si sblocca solo al quarto e ultimo tempo, dopo una tripla messa a segno dalla squadra nissena che porta la gara dalla sua parte e spezza le ultime speranze dell'Olimpia che si era rifatta sotto. Adesso per la Cusn arriva il turno di riposo e scenderà nuovamente in gabba a metà febbraio. Basket, promozione non aggiornata del girone D. La Fenice Priolo Salusport 36 a 64. Cusn-Olimpia 56 a 49. Riposa nuova città di Gela. La classifica. Olimpia 12. Cusn 10. Nuova città di Gela 8. Salusport 6. La Fenice Priolo 0. La partita a un certo punto è diventata molto fisica, però loro stavano recuperando. Siamo andati un po' in sofferenza, però alla fine siamo riusciti con uno sforzo collettivo a tenere il vantaggio e a portare la partita a casa. È stato bello perché è stato uno sforzo di tutti. Abbiamo battuto la prima, non l'avevano mai perso, quindi una soddisfazione enorme veramente. Siamo contenti tutti quanti. Essenzialmente abbiamo fatto una vittoria importantissima, abbiamo ribaltato il risultato dell'andata, abbiamo perso di 4 punti a Ragusa. Confermiamo il secondo posto, dunque continuiamo così cercando di migliorare anche i risultati in trasferta. Fino adesso non abbiamo mai perso dentro le nostre mura, però cercheremo di migliorare e fare questo salto di qualità.